Ciao, sono Sofia Di Zegos e oggi condividerò con voi un'analisi sui mercati finanziari elaborata dal nostro ufficio studi. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un like. Alphabet Il chatbot sperimentale di Google, Vard, sta per sviluppare un altro prodotto con 2 miliardi di utenti, ha dichiarato un direttore giovedì alla conferenza Voyagers Next a New York. Vard, che permette ai consumatori di fare brainstorming e reperire informazioni con l'aiuto della nuova intelligenza artificiale, sta gettando le basi affinché Google attiri ancora più clienti, ha detto in un'intervista il responsabile del prodotto, Jack Kaucek. Tra le opportunità c'è il piano dell'azienda di vivacizzare il suo assistente Google, che imposta timer e soddisfa comandi, con i suggerimenti indirizzati dall'uomo di Vard. La prospettiva di Google sottolinea le ambizioni per l'IA della sua casa madre Alphabet, che ad oggi ha 6 prodotti ognuno con miliardi di utenti, tra cui il suo motore di ricerca e YouTube. L'assistente Google è presente su più di un miliardo di dispositivi, secondo i dati dell'azienda. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Per maggiori informazioni visita il sito www.zeigosonline.com, oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a info-zeigos.com. ZEIGOS offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti.